Allora, rifai il dubbio! No, non so com'è, com'è! Michele, l'ha fatta? Infatti io pensavo di modificarla perché... Ma Michele è forte, è forte! Doppio lì! Piano, piano, no! Qua, qua! Ma no, di qua devi venire! Ma cazzo, quindi doppio lì! Doppio lì, poi vieni fuori di qua! Curva qui! Un po' bruttia, però vedo che Michele è figa la parola! Eh, ma Michele è bravo! Mano, va! Va, attento col pezzo, eh! Indi, basso! Lì l'ha fatto spostare! Sotto, giri e chiudi là! Va! Bravo! Già, fagli il trucco lì, va! Che è che ha spostato? Fagli il trucco lì! Sì! Hai visto come fa quando fa le zone mostruzione? Ma così, ci mettevi! Non è se vogliamo vedere la coppetta? No, 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 no! Uè, 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 uè! Ha fatto prima bene tutta la parte! E poi... Funzionato, troppa gente! Poi ogni volta che la fai non è mai uguale, eh! È per quello che quel ragazzo la ci diceva! Quando fate, mettete giù una zona! Farla, sempli, sempli! Sì! Questa posizione, no? Wow! Ah, è andato giù anche di qua! Ah! Forma Michele! Forma! Ah! Guardalo! 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 Eccolo! Il telecamera numero uno! Ah, chi cosa ha fatto? Cinque! Cinque! Guardalo! Guardalo! Bravo Luis! Tienila, tienila! Lasciala correre! Vai! Litamente ruota! Ecco da roma! S 노lli, fai! Uh! Yeah Ho Armato! Chiario? C'è chiara risolata? Sì! ist atrav Daro! C'è chiara lascia. bravo bravo dai 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 ciao Ah, pietra! Ah, pietra!